Musica Fare l'animatore turistico è una delle esperienze e delle passioni più belle del mondo Ti dà tante emozioni diverse Si conosce ancora di più se stessi con questo tipo di lavoro Come persona ti fa crescere tanto Mi ha aiutato ad essere molto meno timido Io la chiamo esperienza di vita perché mi ha portato tanto e mi ha cambiato e continuerà a cambiarmi negli anni Blando verso il cielo Peter Pan Get your wings